Musica Questa sera alle 18 al foyer del Teatro Maruccino di Chieti si esibiranno in un atteso concerto i violoncellieri che poi replicheranno il loro spettacolo il 10 luglio a Campobasso. I violoncellieri sono un ensamble di violoncelli costituito esclusivamente da alunni del maestro Gianluigi Fiordaliso, presidente dell'Associazione Culturale Modulazioni d'Arte di Pescara e docente di violoncello presso il MIBE del capoluogo adriatico. Vantano già un curriculum davvero emozionante e hanno a loro attivo numerosissimi concerti in varie città italiane, tra cui Vicenza, Ravenna, Lucca, L'Aquila e Macerata, e hanno collaborato con artisti come Ernest Reisinger, Monica Lescovar e Mario Brunello. Il repertorio di questo singolare ensamble prevede opere classiche, moderne, contemporanee, spaziando dalla classica più ricercata alla leggera, senza confini. Dei violoncellieri fanno parte con Radoceri, Luigi Di Cristofaro, Giovanni Narciso, Gianmarco Di Carlo, Davide Fiordaliso, Medi Chibari, Marco Maresca, Miriam Antonucci, Ludovico Di Lello, con il maestro Gianluigi Fiordaliso.